buongiorno agli amici della casa chiave oggi chiave bravo il cliente ha questa chiave fissa non va più quella col telecomando ok noi gliene abbiamo fatta una nuova andiamo a vedere se funziona così aperto così è chiuso perfetto abbiamo proviamo la scensione perfetto ottimo soprattutto chiudiamo la chiave fiera perfetto milano casa della chiave number one ciao Grazie per la visione Grazie per la visione